Nel corso degli ultimi mesi è stata intrapresa dai carabinieri per la tutela ambientale e la transizione ecologica una complessa campagna di controlli tesi a reprimere fenomeni di abbandono e combustione illecita di rifiuti nei territori tristemente noti come terra dei fuochi. In una prima fase è stato effettuato uno studio di analisi finalizzato a censire le aree maggiormente utilizzate per l'abbandono e la combustione dei rifiuti e successivamente si è proceduto ad analizzare la particolare tipologia di rifiuti oggetto di combustione. Da tale quadro si è poi risalita alle filiere produttive da cui scaturiscono particolari tipologie di scarti di produzione pianificandone controlli a tappito. La prima attenzione è stata dedicata alla filiera del pellame e del tessile i cui primi iniziali controlli hanno consentito non solo di ravvisare numerose violazioni in materia di smaltimento degli scarti di lavorazione ma soprattutto hanno condotto ad individuare ulteriori aziende operanti in modo illegale e abusivo nella stessa filiera. Proprio in virtù di tali primi positivi riscontri nel mese di settembre e di ottobre lo scorso anno e da ultimo nei giorni scorsi nei comuni di Napoli, Casavatore, Giuliano in Campania, Sant'Ammaro e Solofra, Ottaviano, San Giuseppe Vesuviano, San Gennaro Vesuviano e Palma Campania, i carabinieri del gruppo per la tutela ambientale di Napoli, nuclei operativi ecologici di Napoli, Caserta, Salerno, Bari e Potenza, coaduivati dal personale del gruppo carabinieri, spettorato del lavoro di Napoli e dai militari dei comandi provinciali di Napoli e Caserta, hanno effettuato una serie di controlli finalizzati ad accertare le modalità di smaltimento degli scarti di lavorazione dell'industria tessili, avendo appurato che proprio gli scarti tessili rappresentano una delle tipologie di rifiuti più spesso dati alle fiamme nelle aree maggiormente interessate dalla combustione illicita di rifiuti. Nello specifico, circa 60 militari hanno sottoposto a verifica numerosi opifici industriali nella provincia di Napoli e Caserta. All'esito delle operazioni compiute, i carabinieri hanno deferito all'autorità giudiziaria 29 persone, titolari di altrettante ditte, ritenuti responsabili di smaltimento illicito di rifiuti e scarico illicito di acque reflui industriali, sottoponendo a sequestro impianti e macchinari utilizzati per l'esercizio delle illicite attività di concia e lavorazione del pellame dei tessuti. Nello stesso contesto, i carabinieri del NOE di Napoli e del Nucleo Ispettorato del Lavoro dello stesso capoluogo hanno disposto la sospensione dell'attività produttiva di 5 opifici della provincia di Napoli, in quanto al momento del sopralluogo verificavano l'abusivo stoccaggio di ingenti quantitativi di scarti di lavorazione, nessuno dei quali riportato sui registri previsti per legge e la presenza di 39 operai in nero, su un totale di 60 occupati. Nel corso dei controlli è stata acquisita cospicua documentazione al vaglio degli investigatori che consente di risalire ad ulteriori filieri illegali. I riscontri ottenuti hanno permesso di confermare come la problematica dello smaltimento illicito di rifiuti a mezzo di combustione degli stessi sia dovuta principalmente agli elevati oneri da sostenere per il regolare smaltimento dei rifiuti, all'esistenza di attività che operano con mano d'opera in nero e alla tendenza di taluna aziende di nascondere al fisco la reale operatività, limitando la fatturazione attraverso la produzione in nero ed evitando dunque i previsti oner di tassazione.